Da un po' di tempo, non so quanto tempo, sono scelti i leggings. Ma io non c'ho niente contro i leggings. Oppure i calzoni quelli stretti, skinny skinny, scubi-ski, scubi-ski, quelli stretti. Però parliamo dei leggings che ci fa più. I leggings è un'arma letale. Spiego perché. Perché se tu superi il 40 d'età femmine, parliamo di donne, dopo la 40 la legge dice, c'è un articolo del codice penale, ci sono i bambini in giro, è pericoloso. Perché dopo i 40 il leggings stringe, stringe la ciccia, però la ciccia da qualche parte a dannà. Non è che ti metti il leggings, la ciccia rimane a casa, tu esci 48 kg, no, esci o da qua, o da qua, vedi queste cose improprie. Io quando vedo le persone, ma pure 50-60, dei ragazzi, ma pure i ragazzi li lascio passa tutto. di una certa età. Dico, ma guarda questa, 50 anni, quanta solitudine mi emana. Perché uno ha quei leggings, di una certa età, con sto culo tutto così, maculati, a volte pure maculati. Possibile che questa, nella sua solitudine, non c'è un parente. uno che a casa gli fai, Luisa, tu cazzo, proprio così, così, guarda, molto così. Luisa, gente che, ma manco addigno, c'è i citofoni, no? Fai Luisa, ciao, sono Giorgio, tu cazzo vai con qui, cioè, dammi se è una mossa, non si può andare in giro. Io vedo, ci stanno pure signore qui grandi, io vedo bambine, mamme, nonne, tutte vestite tigrate. 15, 50, 70, la nonna sembra un troione antico, non puoi andare in giro. Ragica la miseria, uu. Ma lo diciamo, Emanuele, per voi. Poi un'altra cosa, lo dico, un messaggio, l'ultima puntata, la calza, si chiama calza rete, lo sai per quello che mi dico? Perché c'ha la rete. Sto spiegando a lui, che cazzo rete, c'ha la rete, no? La rete, come hai visto, c'ha i buchi. Dai buchi, se tu non sei, se non sei proprio fisica, quando tu pressi, in quei buchi, hai visto che non fanno esercice? Esce, quello dico le donne, per la dignità di loro. Esce così, no? E non è bello da vedere. Poi dico, quando comprate, c'è sta nella scatola delle calze, c'è scritto dietro, modo d'uso, c'è scritto, il modo d'uso, come si mettono. C'è scritto, leggi bene, a 180 gradi per due ore. Perché stai a fare un rolet di vitella, stai facendo? Non stai cucinando. Lascia perdere l'uomo. Lascia perdere gli uomini. Ma gli uomini, come i piammano, ma lascia perdere. Lascia, gli uomini, ti ripeto, non è, hai l'uomini, sai chi sono? Sono quelli che quando la donna balla, lui sta sedendo così, no? Oh, bella, ci sono. Le donne, alla fine, c'hanno i da loro, gli anni fa, c'hanno sto problema. Mannaggia, la puttana. Va detto a tua manonna, nonna, quando chiami Luigi al mare, non fare Luigi vi è fuori, perché si sente fa... ... ... ... ... Grazie a tutti.